Oggi volevo parlarvi di Torchain, ovvero della moneta rune, è una moneta che avevo studiato un po' fa però non mi aveva particolarmente impressionato. Ho deciso di ristudiarla ultimamente dato che ho fatto una salita ripida insieme a luna e ho capito l'errore che avevo fatto. Quindi oggi andrò a spiegarvi più o meno in breve cos'è Torchain, andrò a spiegarvi la tokenomics di Torchain perché è una tokenomics fantastica e andrò a parlarvi anche di quelle che sono le predizioni del prezzo. Il titolo del video è un pochino clickbait anche se non è impossibile. È facile dire che non è impossibile che Torchain arrivi a 1000 dollari perché potrebbe succedere però teoricamente delle valutazioni che al momento possono sembrare folli per Torchain quindi anche 200, 300, 400 dollari sono totalmente possibili in 3-4 anni. In realtà anche un po' di più però diciamo che il titolo è clickbait però c'è un fondo di verità. Tutti i video che vedo su Torchain, non particolarmente in Italia, quando ho provato a informarmi ho cercato video americani, tutti parlano più o meno del funzionamento di Torchain, quindi tutti ti dicono come funziona, cos'è, non in maniera troppo tecnica però te lo dicono in maniera abbastanza facile, cos'è e come funziona. Nessuno, credo che almeno dei video che ho visto, nessuno evidenzia particolarmente perché è così interessante la tokenomics di Torchain, quindi è quello che proverò a fare in questo video. Quindi andiamo velocemente a vedere cos'è Torchain. Torchain è un DEX, è un DEX però un po' particolare, quindi i DEX sono i decentralized exchange, come ad esempio Uniswap, che ti permettono di passare in maniera decentralizzata da una moneta a un'altra, quindi se vuoi passare da Ethereum a AVE puoi andare su Uniswap, dai tuoi Ethereum e ricevi degli AVE in maniera molto semplice. Torchain permette di fare la stessa cosa crosschain, quindi tu se vuoi passare da BTC a Ethereum in maniera nativa, quindi non Wrapped Bitcoin per Ethereum o Wrapped Ethereum, se vuoi passare in maniera nativa da un L1 a un altro L1, in realtà ci sono anche dei Wrapped asset, però principalmente si punta ad arrivare in maniera nativa, quindi se vuoi passare ad esempio da Bitcoin a Ethereum in maniera nativa, lo puoi fare, perché è come Uniswap Torchain ha delle pool di liquidità dove tu puoi mettere i tuoi Bitcoin e ritirare i tuoi Ethereum, o mettere i tuoi Ethereum e ritirare i tuoi Bitcoin. Quindi è semplicemente un DEX che però funziona anche crosschain, funziona molto con degli asset non wrappati, quindi puoi passare da Bitcoin, proprio dalla chain di Bitcoin, alla chain di Ethereum, quindi è come se fosse anche un bridge. E principalmente si punta ad utilizzare asset non wrappati. Al momento, come detto, ce ne sono alcuni wrappati, però diciamo l'obiettivo è quello di poter passare in maniera decentralizzata da una chain a un'altra. È possibile per la prima volta anche avere uno yield reale su Bitcoin, sulla chain di Bitcoin, quindi voi potrete depositare i vostri Bitcoin nel multisig di Torchain e ricevere, se non sbaglio, circa un 22% annuale sui vostri Bitcoin. Quel 22% annuale è la prima volta che uno yield reale, quindi uno yield reale su Bitcoin, sulla chain di Bitcoin. Non dovete usare wrapp Bitcoin, che comunque è mediamente sicuro, ma non è mai completamente sicuro. Non dovete usare nessun asset sintetico, nessun derivato. Siete sulla chain di Bitcoin. L'unico problema, ovviamente, è la sicurezza di quel multisig di Torchain. Quindi, ovviamente, se Torchain viene creato, i vostri asset potrebbero essere toccati, però toglie un layer di complessità. Quindi toglie wrapp Bitcoin, toglie tutti gli asset wrapp e vi dà un 22%, al momento, ovviamente poi questo yield cambia, sui vostri Bitcoin. Ci sono altri yield molto alti, anche, se non sbaglio, 78% su BUSD. Ci sono yield molto, molto alti. Quindi anche, se non volete comprendere la tokenomics, se volete solo farmarci, ovviamente c'è sempre l'aspetto della sicurezza che può essere pericoloso, però sono ottimi yield. Quindi anche se non volete capire la tokenomics, potete andare a farmare là. Quindi, secondo me, RUN è la terza di, più o meno, tokenomics migliore nelle crypto. La prima è quella di Luna, la seconda sono quelle di Convex e Curve, le metto insieme perché devono essere collegate. E la terza è quella di RUN. Il perché lo andremo a vedere in questo video. Andremo però un pochino a ignorare aspetti un po' più tecnici, quindi andiamo un po' a ignorare come funziona RUN. Vi basta sapere che è un DEX dove mettete i soldi e li tirate fuori in un'altra moneta. E andiamo a ignorare anche aspetti più tecnici. Vi lascio in descrizione le risorse per capire le threshold signature, il CLP model, il TSS, MPC, quindi vi lascio un po' di link in descrizione, sia per capire la tokenomics, sia per capire possibili valutazioni per il prezzo, sia per aspetti più tecnici. Quindi vi lascio diciamo molte delle risorse che io ho utilizzato, che ho trovato utili per capire Torchain. Un aspetto molto importante per capire ciò che andrò a dire è la game theory. La game theory è una branchia della matematica che allinea gli incentivi degli attori all'interno di un ecosistema. Cosa vuol dire quello che ho appena detto? Immaginatevi uno scenario, questo esempio lo faccio molto spesso perché è facile da capire, immaginatevi uno scenario in cui una madre deve dare da mangiare a due figli. Non può dare più da mangiare a un figlio rispetto a un altro perché quello che prende di meno poi si arrabbia. Quindi può semplicemente o fare i piatti e rischiare che qualcuno dei due figli si arrabbi, oppure può utilizzare la game theory. Quindi utilizzando la game theory si potrebbe fare che la madre dà la possibilità a un figlio di fare i due piatti e all'altro figlio di scegliere quale piatto mangiare. Così l'incentivo del figlio che fa i piatti è quello di farli uguali perché se fa un piatto troppo grande allora l'altro, il fratello, andrà a scegliere il piatto troppo grande da mangiare. Quindi la game theory, come detto, allinea gli incentivi degli attori all'interno dell'ecosistema. Quindi non è che è impossibile andare a fregare il sistema e economicamente non vantaggioso. Il figlio che fa i piatti può benissimo fare un piatto enorme, semplicemente l'altro, il fratello, sceglierà quel piatto da mangiare e quindi lui che ha fatto i piatti mangierà di meno. Quindi la game theory è una cosa che comanda tutte le cripto, c'è tantissima game theory dietro le cripto e ora in particolare andremo a vedere la game theory dietro Torchain per andare a capire la sua tokenomics e il suo possibile prezzo. Parlando di game theory all'interno di rune andiamo a rispondere a tre domande. Quindi chi sono gli attori principali? Perché come abbiamo detto la game theory giustisce gli incentivi degli attori all'interno di un ecosistema, quindi quali sono gli attori principali di Torchain, di rune? Perché esiste il token rune? Perché poi alla fine potremmo vedere che teoricamente si potrebbe fare senza il token di rune, ma si andrebbe a rompere completamente la game theory se lo si facesse e perché il prezzo di rune si dovrebbe alzare insieme al TVL. Andiamo a vedere un DEX normale, quindi come detto ad esempio Uniswap. Su Uniswap ci sono due attori principali, ovvero l'LP provider e il trader. Quindi se non siete nuovi alla DeFi sapete che ci sono le liquidity pool, quindi ci sono le persone che danno la propria liquidity al protocollo e ci sono i trader che cambiano da una moneta a un'altra e pagano una piccola fee al protocollo e a questi liquidity provider. Quindi questi sono i due attori principali all'interno di Uniswap. Invece su Torchain si aggiunge un altro, quindi ci sono i liquidity provider, ci sono i trader, ma ci sono anche i Tornode. I Tornode sono dei nodi della chain di rune perché Torchain è una chain all'interno dell'ecosistema di Atom, quindi non è un protocollo come ad esempio Uniswap che gira su Ethereum, è una vera e propria chain, quindi ha anche bisogno di nodi. Quindi i Tornode sono dei nodi della chain di Tor, della Torchain, che dovranno avere anche dei nodi, dei full node per le chain supportate da rune, quindi se potete scambiare da Bitcoin e Ethereum, chi ha il Tornode dovrà avere anche dei full node per Bitcoin e per Ethereum, quindi per tutte le chain supportate da Torchain bisognerà avere un full node. I nodi al momento sono circa 35, quindi nodo più nodo meno sono più o meno questi. Si prospetta che col tempo cresceranno sopra i 100 e una delle critiche maggiori è che i 35 nodi non sia un qualcosa di decentralizzato. Questo è vero, ma è comunque meglio di tutte le altre opzioni presenti al momento, quindi per farmare con Bitcoin ad esempio è necessario utilizzare VratBitcoin che non è decentralizzato, per andare a cambiare da una chain ad un'altra è necessario comunque andare ad utilizzare ad esempio un exchange centralizzato che è molto più centralizzato dei 35 nodi. Quindi è vero che Torchain non è completamente decentralizzato, ma all'aumento per cambiare nativamente da un L1 a un L1 è la soluzione più decentralizzata che esista e probabilmente con l'aumento degli incentivi, con l'aumento del prezzo di Torchain andranno ad aumentare anche i nodi. Perché come vediamo qua i nodi utilizzano il Proof of Bond per diventare dei nodi, quindi non sono dei nodi prestabiliti, non ci sono votazioni. Semplicemente per diventare un nodo si prendono dei soldi, li si mettono nel nodo, se siete tra i nodi con più soldi, allora rientrate tra i nodi che andranno a fare da validazione. Quindi non è una cosa prescelta, se ovviamente fossero stati scelti dal protocollo i nodi sarebbe stato più pericoloso. Però appunto i nodi funzionano in questa maniera, quindi basta prendere dei soldi, metterli in un nodo, se siete tra quelli che hanno messo più soldi diventate automaticamente un nodo validatore. I nodi controllano i fondi sulle varie chain, quindi se ci sono ad esempio 50 milioni di bitcoin sulla chain di bitcoin per fare lo swap, i 35 nodi controllano quei fondi, quindi potete immaginare come se abbiano un multisig. Servono due terzi dei nodi per sbloccare i fondi per uno swap e qua quindi, diciamo, sentendo che i 35 nodi controllano i soldi, ci si potrebbe chiedere, non possono rubarli? Andremo a rispondere a questa domanda dopo. Servono due terzi dei nodi teoricamente per sbloccare i fondi o per rubarli e quindi dei 35 nodi attuali circa almeno 23 nodi devono votare sì per spostare i fondi. Quindi come detto chiunque può essere un nodo servono almeno 23 nodi, quindi due terzi dei 35 per andare a spostare i soldi sulle varie chain. Se Torchain ha 50 milioni di TVL per tutte le monete, quindi per tutte varie chain, quindi Bitcoin, Ethereum, USDT, AVAX, quando ci sarà, allora i nodi saranno incentivati, quindi non costretti, incentivati ad avere 100 milioni di asset collettivamente. Quindi se il TVL è di 50 milioni nel protocollo, i nodi dovranno avere 100 milioni. come detto non devono per forza averli, però sono fortemente incentivati ad avere il doppio del TVL in rune, in staking, nei nodi. Quindi se dovessero averne di meno, quindi se il TVL di Torchain è 50 milioni, però in staking ci sono 70 milioni, quindi c'è di meno della metà, allora sarà in uno stato non bilanciato. Allora una parte delle fee che andrebbero verso i liquidity provider, vengono reindirizzate verso i Tornode, così aumentando lo yield dei Tornode e incentivando le persone a diventare Tornode e quindi a mettere sempre più soldi per diventare Tornode. Quindi si reindirizza un pochino dei guadagni del protocollo in maniera da incentivare le persone ad andare a fare i nodi. In questa maniera si va a aumentare, quindi come detto non è costretto il fatto che si abbiano 100 milioni, 100 milioni ovvero il doppio di 50 milioni, però è fortemente incentivato. Se invece nel caso contrario si dovessero avere ad esempio 130 milioni, si sarà di nuovo in uno stato poco bilanciato e quindi si andrà a reindirizzare una parte dei guadagni di nodi verso i liquidity provider, così andando a disincentivare le persone a diventare nodi. In questa maniera si riesce più o meno sempre a stare in uno stato di equilibrio in cui i milioni di dollari di rune in staking sulla chain sono circa il doppio del TVL del protocollo. E quindi questa è una parte della game theory che ci dietro a Torchain che ci servirà anche dopo, quindi lo ripeterò un'altra volta in maniera un pochino più semplificato. Se Torchain ha 50 milioni di TVL, allora lo staking sui nodi dovrebbe essere il doppio di 50 milioni, quindi 100 milioni. Se Torchain avesse 100 milioni di TVL, lo staking sui nodi dovrebbe essere di almeno 200 milioni e così via, quindi il doppio del TVL di Torchain. Andiamo a vedere anche un po' la game theory per i trader e anche per i liquidity provider, quindi chi offre lp mette moneta più rune, quindi se tu metti un liquidity pool, vuoi mettere 100 mila dollari in bitcoin, devi dare 100 mila dollari in bitcoin e 100 mila dollari in rune. Se dai solo 100 mila dollari in bitcoin, il protocollo prende quei 100 mila dollari, vende la metà e compra rune, quindi poi hai 50 mila dollari in bitcoin e 50 mila dollari in rune. Quindi ogni pool sarà composta al 50% da rune e non si può avere una pool senza rune, quindi non si può avere ad esempio una pool bitcoin e ethereum. Tra le due monete ci dovrà sempre essere rune, questo crea una liquidità più profonda, perché ad esempio immaginiamo su uniswap dove si può avere una liquidità con qualsiasi pair, quindi puoi avere AVE con USDT, AVE con USDC, AVE con Ethereum, AVE con Bancor, AVE con tantissime altre cose, si crea una liquidità molto più frammentata e quindi è molto più facile avere dello slippage. Invece concentrando tutta la liquidità tra moneta X più rune si ha una liquidità più profonda e quindi un po' come Bancor che continua a farlo come un uniswap versione 1 che lo faceva, si ha questa liquidità con la moneta del protocollo più l'altra moneta che si vuole scambiare. Quindi passando da Bitcoin a Ethereum si farà Bitcoin rune, rune Ethereum e quindi si farà questo passaggio intermedio con la moneta di Torchain in mezzo. Come detto in questo video non andrò troppo nel taglio in questo modello e nella protezione che c'è per l'impermanent loss, però vi lascio di nuovo il link in descrizione, quindi se volete potete andare a approfondire in descrizione. Ok, quindi abbiamo visto un pochino la game theory, andiamo a vedere perché esiste il token quindi rune, perché poi alla fine vi dovete sempre chiedere perché esiste il token, il protocollo può sempre avere un senso, però il token effettivamente a cosa serve? Uniswap come protocollo ha molto senso, come token molto di meno, AVE stessa cosa, quindi dovete dividere il protocollo dal token e quindi adesso andremo a vedere, abbiamo visto un po' come funziona il protocollo e perché dovrebbe esistere il protocollo, che funzioni ha, andiamo a vedere perché dovrebbe esistere il token, che funzioni ha il token, perché non potremmo fare ad esempio tutto in pair con BTC, quindi abbiamo che se vuoi passare da Ethereum a Monero, devi fare la liquidity pool Ethereum Bitcoin, la liquidity pool Monero Bitcoin, quindi avere tutto invece che denominato in rune, denominato in Bitcoin, perché è una cosa che teoricamente si potrebbe fare, però andiamo a vedere perché non avrebbe senso da un punto di vista game theory. Quindi teoricamente se qualcuno dovesse controllare 23 nodi dei 35 potrebbe rubare tutti i fondi perché 23 nodi è i due terzi dei 35 e secondo come funziona Torchain, se i due terzi votano per uno spostamento, allora quello spostamento si fa. Quindi andiamo a immaginare due scenari in cui in entrambi gli scenari due terzi dei nodi non sono onesti e quindi vogliono rubare i soldi a Torchain. Quindi teoricamente i nodi potrebbero rubare i soldi a Torchain, però andiamo a vedere perché con l'esistenza del token di rune sono incentivati a non farlo. Quindi immaginiamo lo scenario A, vado a leggere qua i scenari, quindi immaginiamo lo scenario A dove rune esiste e lo scenario B dove è stato utilizzato Bitcoin invece di rune per la sicurezza della rete. Quindi quel discorso che facevamo prima dell'avere, lo vado a riprendere, quindi deve avere i 100 milioni in staking, quindi il doppio del TVL in rune, invece di avere il rune in quello scenario ce l'abbiamo in Bitcoin. È lo stesso concetto per le liquidity pool, quindi invece di avere moneta X più rune abbiamo moneta X più Bitcoin. Quindi andiamo a vedere questi due scenari. Nello scenario A si hanno 100 milioni di liquidità in totale e quindi abbiamo 50 milioni in rune, perché rune come detto deve essere il 50% delle liquidity pool e 50 milioni in altre monete. I nodi quindi dovrebbero avere circa 200 milioni in stake, perché come detto il TVL è dei 100 milioni e i nodi in stake devono avere circa il doppio del TVL. Quindi in tutto la rete avrebbe 300 milioni, quindi 100 milioni in TVL, 200 milioni in stake. Quindi immaginiamo una persona che va a comprare il 66% dei rune da mettere in stake, quindi va effettivamente a controllare 23 nodi, perché va a controllare i due terzi del sistema, perché va su 23 wallet, crea 23 nodi diversi, deposita tutti questi rune in quei wallet e quindi lui effettivamente dei 35 nodi totali ne va a controllare 23. Per comprare il 66% dei 200 milioni ha bisogno di 132 milioni, quindi la spesa per questo tipo di attacco è di, al momento, di circa 132 milioni. E il guadagno però è di 50 milioni in rune e 50 milioni in altre monete. Quindi dato che rune in quel caso sarebbe compromesso e quindi probabilmente il prezzo scenderebbe tantissimo, avrebbe 182 milioni in rune, che probabilmente scenderebbe tantissimo se non arrivare a zero, e 50 milioni in altre monete. e quindi si spenderebbero 132 milioni per rubarne i 50. Quindi ovviamente è uno scenario possibile, ma non è uno scenario che ha senso chi spenderebbe 132 milioni per rubarne i 50. Quindi ovviamente questo vale con qualsiasi numero, questi numeri sono ad esempio, però non ha senso per chi va a rubare, se esiste il token di rune, non ha senso per chi va a rubare farlo, perché andrebbe a rubare meno di quanto spende. Invece nello scenario B, quindi immaginiamo bitcoin viene utilizzato per la sicurezza della rete, abbiamo di nuovo 100 milioni di liquidità totale, quindi 50 milioni in bitcoin e 50 milioni in altre monete. E quindi di nuovo i nodi devono avere in stake 200 milioni, però questa volta non in rune, ma in bitcoin. Quindi servirebbero di nuovo 132 milioni per avere due terzi della rete, ma questa volta si ruberebbero i 100 milioni di liquidità, più il valore di bitcoin non sarebbe così toccato dalla cosa, magari potrebbe scendere un pochino, però non sarebbe così toccato, e quindi si avrebbero ancora i 132 milioni iniziali, e quindi si avrebbero 132 milioni iniziali che non sono stati persi, più i 100 milioni rubati. E quindi se non si utilizzasse, se non esistesse il token di rune, che viene direttamente colpito da casi del genere, allora la game theory non funzionerebbe perché semplicemente ci sarebbero i nodi che ruberebbero i soldi e quindi finirebbe la torceni. Quindi ecco perché esiste rune per la game theory, ecco perché rune è un token necessario. Da questo modello possiamo anche vedere che per ogni dollaro di moneta che non è rune, devono esistere 3 dollari di rune. Questo perché per ogni dollaro di moneta di non rune in TBL occorre mettere anche un rune perché devi fare la liquidity pool, quindi se metti un dollaro di bitcoin devi mettere anche un dollaro di rune, e per ogni dollaro di TBL bisogna avere il doppio nei nodi, e quindi per ogni, quindi con l'esempio con un dollaro avremo un dollaro di bitcoin, un dollaro di rune messo in liquidity pool e 2 dollari nei nodi, quindi avremo un dollaro di bitcoin e 3 dollari di rune. Quindi per una delle prime volte nelle cripto il token di rune è direttamente collegato al suo TBL, perché più aumenta il TBL, più aumenta la buy pressure. E quindi andiamo a vedere perché il token di rune dovrebbe al darsi di prezzo, un pochino ve l'ho appena anticipato, e quindi il TBL è una metrica molto molto utile per capire se rune salire di prezzo, perché se credete che l'utilità e l'utilizzo di rune andranno a crescere nel futuro, e io credo di sì, perché comunque è un protocollo molto utile, è un DEX crosschain che vi permette di fare scambi nativi, è una cosa molto 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 utile, e se credete che l'utilità e l'utilizzo di Torchain andranno ad aumentare, allora credete anche che il TBL andrà ad aumentare, e se il TBL andrà ad aumentare, anche la buy pressure andrà ad aumentare. Contando anche il fatto che rune ha 0 emissioni, perché tutti i token di rune sono già in circolazione, i 500 milioni di rune sono già in circolazione, possiamo vedere che rune ha un tokenomics davvero davvero forte, quindi se Torchain ha un miliardo di TBL in asset, dovrà avere 3 miliardi di rune, quindi se ha un miliardo di bitcoin per dire, dovrà avere 3 miliardi di rune, quindi qualcuno dovrà pur comprare quei 3 miliardi, quindi più aumenta il TBL e più aumenterà la buy pressure sul rune. Questo senza contare che ci sarà anche uno shortage di rune, non possiamo calcolare di quanto, però non tutti i rune saranno messi in stake per i nodi, alcuni saranno su exchange centralizzati, alcuni saranno in wallet, alcuni in cold storage, alcuni nella treasury del team, nella reserve, e quindi non tutti i 500 milioni di rune sono in circolazione, e quindi non solo abbiamo 0 emissioni e abbiamo una buy pressure che più aumenta l'utilizzo del protocollo, più aumenta, ma abbiamo anche il fatto che non sono tutti i 500 milioni in circolazione, quindi effettivamente, di nuovo non possiamo calcolare effettivamente quanti sono, però non sono 500 milioni i token in circolazione, sono di meno, quindi abbiamo uno shortage rispetto alla total supply. Quali sono i rischi? Il rischio principale è quello di hack, Torchain è stato hackerato più volte, in questo video non andremo a vedere in particolare la sicurezza, abbiamo visto un po' la sicurezza attraverso la game theory, però non andremo a vedere nella maniera tecnica, Torchain mi piace, non l'ho ancora comprato, probabilmente lo farò, e quando lo farò, probabilmente farò anche un video, oppure un pochino dopo, farò anche un video su parti più tecniche, o la sicurezza in maniera più tecnica di Torchain, in questo momento non ho le conoscenze necessarie per farvi un video sugli aspetti più tecnici, però il rischio principale è che Torchain venga hackerato, è già successo in passato, anche se il prezzo di Torchain mi ha stupito, l'ultima volta che è stato hackerato io avevo il token di Torchain e ha reagito incredibilmente bene, è sceso davvero di pochissimo, è sceso di più in queste discese degli ultimi due mesi rispetto a quando è stato hackerato, quindi vuol dire che chi ha comprato Torchain ha già messo in conto una cosa del genere, è uno scenario che non fa troppo sell the news, o meglio sell the event, e quindi è un rischio che esiste, soprattutto se fate la liquidity pool, però anche se avete il token, quindi è una cosa che dovete tenere in conto, Torchain è già stato hackerato più volte, potrebbe essere hackerato in futuro, è un protocollo molto nuovo, molto complesso, potrebbe essere hackerato, c'è il rischio che succeda questo, nonostante questo rischio comunque credo di investirci, però se ci entrate dovete essere consapevoli che potrebbe essere hackerato, che i vostri fondi potrebbero essere toccati, ovviamente fondi toccati nel caso in cui facciate il liquidity pool, se avete solo il token, semplicemente il prezzo del token potrebbe scendere. Quindi andiamo a vedere il prezzo, perché nel titolo c'è un clickbait sul fatto che ROM potrebbe arrivare a 1000 dollari, è effettivamente possibile? Ni, niente è impossibile, il punto è che come abbiamo detto ci sono 500 milioni di token, non tutti i 500 milioni sono in circolazione, abbiamo zero emissioni e abbiamo un protocollo che anche se è nuovo probabilmente nei prossimi anni diventerà molto 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 utile, più aumenterà il TVL di Torchain Torchain e più aumenterà il prezzo. Quindi se Torchain dovesse stabilirsi come primario dex crosschain, cosa che credo che farà, dato che al momento credo anche sia l'unico, e se il mercato del crypto dovesse continuare a crescere e quindi anche il TVL di Torchain dovesse continuare a crescere, credo che Torchain possa davvero arrivare a delle cifre che al momento ci possono sembrare inimmaginabili. C'è anche un report di Grey Matter che ha fatto un'analisi su Torchain e ha spiegato perché, secondo loro, nel 2025 281 dollari potrebbe essere una sottostima del prezzo di Rune, ovviamente queste sono solo stime, vi lascio la ricerca in descrizione, è molto dettagliata e molto interessante. Secondo me non è per niente impossibile che Torchain arrivi a questi prezzi, contando la tokenomics, contando che se non dovesse venire a creare e il mercato del crypto dovesse continuare a salire, probabilmente salire anche il suo TVL e quindi il suo prezzo. Una cosa da fare attenzione, che ho visto detta da alcuni YouTuber che non è esattamente corretto, se abbiamo un miliardo di TVL in asset e quindi dobbiamo avere 3 miliardi di Rune nel protocollo, 3 miliardi non è il market cap, non funziona così, il TVL non è direttamente correlato al market cap, però attraverso il TVL possiamo sapere che aumenta la buy pressure e quindi aumenta il prezzo e quindi aumenta il market cap. Ma non è così direttamente correlato, l'ho visto dire alcuni e sarebbe molto bello se fosse così direttamente collegato, riuscire a capire un prezzo sarebbe molto più facile, però come detto vi lascio in descrizione alcuni modelli, alcune analisi per capire un possibile prezzo di Rune, è una moneta che mi sta piacendo molto, come detto in futuro potrebbero arrivare video un po' più tecnici sulla sicurezza, sul come funziona effettivamente e al momento vi lascio con questo, quindi ho deciso di fare questo video perché quando ho visto video di americani su YouTube nessuno parlava veramente della tokenomics, nessuno ti spiegava perché la tokenomics è così correlata al TVL e in realtà è molto molto semplice da capire, quindi quando te la spiegano in maniera diretta, quindi se aumenta il TVL e aumenta il prezzo è molto molto facile, purtroppo ci ho messo un bel po' di articoli per arrivare a capire che la tokenomics è così forte e quindi ho deciso di fare questo video, quindi vi lascio tutte le risorse in descrizione, vi lascio anche il mio Discord in descrizione, se volete potete scrivermi su YouTube o su Discord, rispondo su entrambi.